Salve a tutti cari Nikonisti e ben ritrovati ancora una volta sul canale. Come sempre vi invito ad iscrivervi e vi ricordo che l'iscrizione è assolutamente gratuita. Oggi voglio parlarvi del Nikkor 40mm f2 per Z, ossia questo piccolino qua. Un obiettivo sicuramente molto interessante che andremo anche a confrontare con altri due obiettivi, ossia il 3518 FS e il 35F2 AIS. Ma il protagonista della recensione è lui, per cui andiamo a vederlo più nel dettaglio. Prima di vedere nel dettaglio questo obiettivo vi rubo ancora un secondo. Il 35F2 veniva fornito con questo paraluce in metallo, in realtà era venduto a parte, però è un bel paraluce in metallo a vite, un po' scomodo il fatto che sia a vite, però insomma c'è il paraluce. Il 3518 era fornito con questo paraluce, decisamente più brutto da vedere, di plastica, però sicuramente molto pratico e anche molto resistente, ve lo posso garantire. E ve l'ho già detto nella recensione di questo obiettivo, vi ricordo che ho già fatto la recensione di questo obiettivo, andatene a cercare, è uno dei miei obiettivi preferiti, anzi ve la lascio qui sotto in descrizione. Invece il nostro nuovo 40mm f2 per Z non viene fornito di paraluce e non è neanche possibile acquistarlo a parte, cioè non c'è un paraluce dedicato a questo obiettivo e non ha l'attacco a baionetta per mettere eventualmente un paraluce. Per cui l'unica cosa che possiamo fare per averlo è acquistare quello del 35 f2 e montarcelo. Però sì, è carino da vedere perché è di metallo e tutto quanto, però secondo me è un po' scomodo questo qui a filetto. È vero che lo monti una volta nel giorno e poi lo lasci sempre montato, però non è il massimo. Ed è una cosa ancora più brutta il fatto che questo obiettivo non abbia un paraluce dedicato. Io trovo che sia semplicemente assurdo. Mi auguro che Nikon si svegli e faccia un paraluce per questo obiettivo, perché non è veramente possibile. Stessa cosa vale per il 28 f2.8, sempre per Z, che anche quello lì non viene fornito di paraluce e il paraluce non è in vendita. Questa cosa io davvero non lo ripeterò mai abbastanza, la trovo senza senso. Il 40mm f2 ha quattro caratteristiche davvero molto interessanti che lo rendono super appetibile per l'acquisto. La prima caratteristica è il fatto che sia molto piccolo, quindi non occupa spazio e potete portarvelo dietro praticamente sempre, senza nessun problema. Seconda caratteristica è il peso, essendo fatto in gran parte in plastica è molto leggero, ma non dà assolutamente la sensazione di essere fragile. È una bella plastica. Terza caratteristica, secondo me molto importante, è il fatto che sia luminoso. Nonostante la lente frontale sia abbastanza piccola, è comunque un f2, quindi un obiettivo luminoso che ci permette di scattare in condizioni di scarsa illuminazione o comunque per staccare il soggetto dallo sfondo. Quarto ed ultimo motivo per acquistarlo è sicuramente il prezzo, ed è il motivo per cui l'ho acquistato praticamente subito appena sono riuscito a trovarlo. Io l'ho comprato da Fototrevisan di Cossato, ma l'ho trovato in tutti i negozi. Fototrevisan ve lo consiglio anche se non mi paga e non ci siamo assolutamente messi d'accordo per questa sponsorizzazione. 289€ per questo obiettivo nuovo di importazione italiana, quindi con la garanzia 4 anni in Ital, direi che è un prezzo che ha la portata assolutamente di tutti. Soprattutto se avete comprato una macchina come questa, una Z7 II, insomma non è che te la regalano, per cui un obiettivo del genere effettivamente è quasi regalato assieme alla macchina fotografica. 289€ in più, insomma, sono veramente poca roba. Però è un obiettivo interessante. Vi ho detto che pesa poco, ma vediamo quanto pesa effettivamente. 187 grammi, veramente un peso piuma, un obiettivo leggerissimo. Vediamo la IS, quindi il 35 F2 quanto pesa. Pesa circa 100 grammi in più, 100 e qualcosa, 295 grammi in totale. Anche lui molto leggero, però vedete che già pesa di più. E il 35 1.8 che nella sua recensione ho definito peso piuma, perché effettivamente lo è, pesa ancora di più, 317 grammi. Per cui, insomma, c'è un bel risparmio di peso utilizzando il 40 F2. Peraltro un bel risparmio di peso, anche perché dobbiamo portarci, se montiamo uno degli altri, persino l'FTZ. Per cui, se vogliamo usare l'FTZ con il 35 1.8, il peso è di quasi 500 grammi. Ed è un po' questo che mi ha spinto ad acquistare il 40 F2, perché il 35 mi piace molto sulla D850, ma trovo che abbia poco senso portarsi dietro un obiettivo così leggero, con l'FTZ e il tutto montarlo sulla Z7 II. Si perde un po' la leggerezza dell'obiettivo e quindi ho preferito prendere un obiettivo dedicato alla Z. Esteticamente l'obiettivo mi piace. Molto semplice, molto elegante e secondo me si sposa bene con le Z, perché comunque il suo design è contemporaneo. Questa è plastica, però è una plastica abbastanza resistente, non dà assolutamente l'idea di essere fragile. È bella solida, nessuno scricchiolio. Stranissima la finitura, però piacevole, un po' ruvidina. La gomma qua è bella, come quella degli obiettivi più belli Nikon, quindi assolutamente non hanno lesinato sul materiale qui della gommina. Bellissimo anche lo scorrere di questa ghiera, è fluidissimo. Come praticamente tutti, credo tutti gli obiettivi Z, il fuoco è by wire, quindi via cavo e elettronico, però funziona davvero molto molto bene. La lente frontale, come vedete, è molto piccola rispetto alla dimensione totale. Considerate che comunque la dimensione del filetto è 52 mm, per cui questa cosa ovviamente è positiva sia per montare il paraluce del 35F2, che ci monta senza nessun problema, ma anche e soprattutto per montare filtri, quindi tutti i filtri classici che utilizzavamo sulle lenti AIS si possono utilizzare senza problemi su questo obiettivo. Scritte molto minimali, niente di che. Il diaframma, come vedete, quando è a riposo sta completamente chiuso, quindi rimane chiuso. Analizzando il lato baionetto, ovviamente possiamo vedere i contatti elettronici per far funzionare l'obiettivo, perché è tutto ovviamente comandato dall'elettronica, non c'è niente di meccanico. Vediamo la lente posteriore, che è praticamente piana, vedete che non ha praticamente nessuna curvatura, così forse si capisce, no? Il senso è perfettamente piano e questo ovviamente è positivo in un certo senso, perché la proiezione dell'immagine è sicuramente molto planare, vista questa caratteristica dell'ottica posteriore. Peraltro il vetro posteriore è più grande di quello anteriore e anche di parecchio. Però qui dietro vediamo anche una delle note dolenti di questo obiettivo. La baionetta è in plastica. Non sembra quella plastica schifosa come per esempio del 18-105 che si rompe facilmente e non è un grosso problema il fatto che sia di plastica, perché l'obiettivo è estremamente leggero, per cui è difficile che si rompa visto il peso in gioco, che è veramente ridicolo. Però diciamo che non è il massimo sapere che la baionetta è in plastica. Comunque, vi devo dire, fa il suo lavoro e serra molto bene sulla macchina, non ci sono giochi, per cui zero problemi. Qui intorno c'è un piccolo anello, un bordino che serve a tenere l'acqua, non c'è il gommino, comunque, secondo me, l'acqua non entra, così l'ho già detto anche nella recensione, o meglio, nel unboxing di questo obiettivo. Per cui, secondo me, dal punto di vista della costruzione meccanica, ci siamo. Ripeto, e non lo ripeterò mai abbastanza, manca il paraluce. Mannaggia loro che non l'hanno messo. Prima di spostarci al computer per vedere alcune fotografie, quindi analizzare lo sfocato e la nitidezza di questo obiettivo e fare anche il confronto con gli altri due, voglio parlarvi dell'autofocus. L'autofocus di questo obiettivo, secondo me, è molto più che adeguato per quello che deve fare. Mi aspettavo prestazioni inferiori a quelle che ho trovato. Di sicuro non è veloce come, che ne so, il 300 F4 PF, che è decisamente un mostro, o il 70-200 F2.8 FL, che è velocissimo anche lui, ma non è neppure lento, è decisamente molto più veloce, per esempio, di un 50-1.4 FS, che secondo me è abbastanza umbradipo. È assolutamente paragonabile al 35-1.8. Non ho fatto effettivamente un confronto diretto, però, secondo me, siamo lì come velocità. Direi che va molto bene, insomma. Per il tipo di obiettivo, l'autofocus è ottimo, cioè, va bene così. Chiaro che, se fosse un obiettivo per sport, direi, è un pelino lento, forse un qualcosina in più ci stava. Però, essendo un obiettivo non pensato per la fotografia sportiva, secondo me la sua velocità di autofocus non deluderà nessuno. Mi sono spostato al computer per farvi vedere un po' lo sfocato di questo obiettivo. Il fuoco è nella parte centrale di quella stella di Natale qui davanti. Vedete che la nitidezza non è eccezionale, forse non è proprio il suo punto forte. Non è neanche scarsa, però non ha livelli record. Insomma, ho visto obiettivi migliori da questo punto di vista, però io non me ne lamenterei più di tanto perché comunque va bene. Lo sfocato è bellino, pallini abbastanza rotondi, quasi perfettamente rotondi, poca aberrazione sul bordo. Ho visto obiettivi molto più costosi che fanno molta più aberrazione sul bordo, per cui direi che va bene così. Direi che è assolutamente gradevole. Chiudendo il diaframma, chiaramente migliora la nitidezza nella parte a fuoco e peggiora la qualità dello sfocato, ma questo è ovvio. Tutti gli obiettivi si comportano in questo modo. Andiamo a vedere un'altra foto scattata un po' a casaccio, è questa qui. Volevo vedere se riuscivo a scattare con tempi molto lenti a mano. Ho scattato a un ventesimo di secondo con l'Ibis attivo, ISO decisamente alti. Il fuoco è sullo spigolo di questo edificio postale. Sono a fuoco perfettamente i rametti di questi alberi. I tronchi che sono un po' più davanti sono già un pelino più sfocati, questo dovuto al fatto ovviamente che è un F2 e quindi minime variazioni di fuoco vanno a cambiare la nitidezza del nostro soggetto. Per cui direi che se la cava bene e si riesce a scattare con tempi lenti e l'Ibis attivo perché l'obiettivo è molto leggero e quindi è facile da impugnare in maniera molto salda, soprattutto con l'impugnatura aggiuntiva come essa la Z7 II di cui vi lascio il video recensione qui sotto. Altra foto che vi faccio vedere è un altro sfocato. Siamo davanti alla chiesa della mia città. Come potete vedere lo sfocato è assolutamente gradevole. Gli oggetti sfocati sono parecchio distanti dall'obiettivo. Se invece andiamo a mettere degli oggetti sia vicini che distanti andremo a notare che gli oggetti più vicini tendono ad avere uno sfocato un po' più distorto mentre gli oggetti a media e grande distanza tendono ad avere uno sfocato con pallini più tondi. Ovviamente sulla lunga distanza in questa foto non ci sono sfocati perché è a fuoco là in fondo dove c'è la luce blu però se vedete già nella parte centrale i pallini di sfocato sono più tondi nella parte laterale dove l'oggetto fuori fuoco quindi queste luci di Natale era vicinissimo parliamo di 20-30 cm al massimo ovviamente ha una distorsione molto più evidente e tende a non essere molto tonda. Secondo me questa cosa caratterizza l'ottica ed è un fattore assolutamente non negativo anzi può essere anche una cosa positiva avere uno sfocato con un po' di carattere e non una roba molto molto neutra. Comunque la linea di massimo ha un po' tutti gli obiettivi quando l'oggetto fuori fuoco è estremamente vicino ed è luminoso tendono a fare delle distorsioni nello sfocato stesso. Vediamo ora il confronto delle quattro ottiche del test in alto a sinistra il 40 f2 in basso a sinistra il 35 f2 a destra due immagini scattate con il 35 1.8 AFS sopra a f2 quindi paragonabile agli altri e sotto a f1.8 quindi a tutta apertura. Vediamo prima la focale effettiva di questi obiettivi il 35 è quello più grandangolare il 35 1.8 dico il 35 f2 IS è un pelino meno grandangolare vedete soprattutto su questo badge che se ne vede una porzione minore e il 40 ovviamente è quello meno grandangolare perché è una focale più lunga la differenza per cui c'è ma non è enorme chiaramente in alcuni ambiti in cui magari un pelino di grandangolo in più aiuta può fare la differenza ma in generale non la fa per quello che riguarda la vignettatura che possiamo vedere guardando le immagini in questo modo le due foto più vignettate sono secondo me quella del 35 1.8 a tutta apertura seguita da quella del 35 f2 chiuso f2 dopodiché le altre due quindi il 35 1.8 chiuso f2 e il 40 f2 sono pressoché uguali anzi forse va un pelino meglio il 40 f2 a tutta apertura perché devo dire che vignetta davvero pochissimo ho zoomato al 200% e cosa vuol dire per voi che guardate beh vuol dire che se state guardando su un monitor in 4k state guardando davvero al 200% se state guardando su un monitor full hd state guardando al 100% per cui insomma sappiate che le proporzioni sono queste tra questi quattro obiettivi quale secondo me è il più nitido beh sicuramente il 35 1.8 sia 1.8 che a f2 rende meglio degli altri due quello che forse ha più aberrazione è il 35 2 AIS è vero che si nota tanto l'aberrazione sul 35 1.8 però solo secondo me perché è di un colore che si nota di più su questa foto ma fidatevi che il 35 f2 ha più aberrazione cromatica il 40 aberrazione cromatica praticamente assente veramente un miracolo non so come faccio ad essere così il 35 f2 e il 40 non è che vanno male è che il 35 1.8 va meglio e considerate che il 35 1.8 S quello per Z è ancora migliore di questo e di parecchio ho fatto il test ve lo lascio qui sotto per cui qui direi che il 35 f2 va meglio però c'è anche da dire che costa il doppio per cui beh c'era da aspettarselo che andasse meglio qui ho chiuso il diaframma f2 e 8 possiamo notare anche un'altra cosa che prima non vi ho fatto notare i colori del 40 e del 35 1.8 sono pressoché identici quelli del 35 AIS sono un po' tendenti al verde considerate però che il bilanciamento del bianco è stato fatto esattamente uguale cioè ho applicato lo stesso bilanciamento del bianco a tutte le foto per cui chiaramente le variazioni di colori che vediamo sono dovuti alle lenti e non a un errore di calibrazione del bianco in post per cui sì dobbiamo notare che i colori sono più freddi sul 35 AIS ma non è sicuramente un problema andiamo anche in questo caso a zoomare al 200% sulla nostra immagine in mezzo il 40 f2 a destra il 35 f2 e a sinistra il 35 1.8 allora anche qua secondo me quello migliore è il 35 1.8 che batte gli altri due e secondo me come secondo non saprei scegliere ma credo che il 40 f2 sia un pelino meglio del 35 f2 ma cambia davvero pochissimo secondo me è un pelo meglio ma neanche di tantissimo per cui ancora una volta il 35 1.8 è migliore gli altri due non è che vanno male vanno bene anche gli altri due però insomma sono inferiori vi assicuro che il 35 f2 che in questo caso è il peggiore dei tre sulla pellicola rende davvero molto bene ma vi dirò anche su digitale rende bene per cui sì è peggiore ma non è che faccia schifo però noi dobbiamo andare a vedere le differenze chiudendo a f4 chiaramente la qualità migliora ancora andiamo prima a vederlo al 100% giusto per vedere lo sfocato anche sul fondo vedete che adesso si vede più a fuoco anche dietro però è ovviamente normale andiamo a zoomare al nostro solito 200% e vediamo un po' la qualità di questi obiettivi devo dire che a f4 tutti e tre se la cavano molto bene è difficile secondo me decidere qual è il migliore forse ha ancora un pelino di vantaggio il 35 f1.8 ma mica di tanto se la cavano bene anche gli altri due forse resta sempre peggiore il 35 f2 ma comunque considerando quanto è più vecchio quell'obiettivo bisogna dire che se la cava molto bene il 40 assolutamente a f4 devo dire che va benissimo come variazioni cromatiche ne ha di più il 35 f1.8 il 40 praticamente assenti e anche il 35 f2 direi ne ha poche quindi a questo punto direi che a f4 i tre obiettivi sono praticamente indistinguibili nella pratica non ci sono differenze sostanziali nessuno su una stampa potrebbe notare le differenze di qualità tra i tre obiettivi per cui devo dire che vanno tutti e tre molto bene ho chiuso ancora il diaframma siamo a 5.6 anche in questo caso devo dire che le prestazioni ottiche sono pressoché identiche tra i tre obiettivi cioè ci sono minime differenze ma non hanno nessuna importanza perché alla fine vanno bene tutti e tre quindi cosa posso dire vanno bene tutti e tre qui sono passato a f8 quindi il diaframma è ancora più chiuso devo dire che anche in questo caso la qualità dei tre obiettivi è pressoché identica forse a f8 inizia a perdere un pelino la IS quindi il primo qui a destra però insomma devo dire che tutte e tre vanno bene per completezza andiamo a vedere al 200% anche a f11 ma credo che non ci sia molto da vedere e effettivamente è così i tre obiettivi se ne cavano molto bene tutti e tre a f11 come praticamente a tutti i diaframmi da f4 in poi bisogna dire che da f4 in poi su tutti e tre non ci sono sostanziali differenze per cui se volete scattare con diaframma un po' chiuso uno dei tre vale assolutamente l'altro con i diaframmi molto aperti vince il 35 1.8 quindi vince ancora di più il 35 1.8 per Z però comunque il 40 e il 35 f2 se la cavano bene cioè è vero non arrivano a quei livelli di qualità però non si può dire che siano scarsi gli obiettivi scarsi sono ben diversi sono ritornato a f2 quindi tutta apertura per il 40 e per la IS vedete che comunque le prestazioni sono adeguate per tutti e tre gli obiettivi ok va un pelino meglio il 35 1.8 però non è che ci sia una grandissima differenza c'è la differenza si nota su f2 e f2.8 però non è così grande secondo me da spendere il doppio dei soldi per acquistare il 35 1.8 o due volte e mezza quasi tre per acquistare il 35 1.8 serie S rispetto al 40 f2 o il 35 AIS che vabbè ho messo per il confronto ma forse non è proprio tanto appetibile su Z perché non so i manual focus sulle mirrorless non piacciono poi a molti piacciono a me sinceramente non piace più di tanto utilizzarli per i due autofocus quindi appunto il 40 e il 35 1.8 sicuramente la scelta da fare è se volete un'ottica leggera per portarvela dietro sempre e avere un ingombro e un peso limitato sicuramente il 40 f2 fa il caso vostro se invece cercate le massime prestazioni ottiche vi comprate assolutamente il 35 1.8 serie S per Z che è ancora migliore di questo qui a FS che vedete nella prova e però ovviamente ha un prezzo diverso per cui secondo me la scelta è da fare tra la massima qualità oppure la massima portabilità in ogni caso secondo me il 40 f2 fa il suo lavoro e lo fa bene ho fatto anche dei ritratti che però non posso farvi vedere purtroppo e secondo me lo stacco dei piani è molto bello e secondo me rende bene dei ritratti mi auguro che questo video vi sia utile per le vostre scelte di cosa acquistare e cosa non acquistare vi ricordo come sempre di iscrivervi a questo canale perché è assolutamente gratuito come del resto è gratuito iscrivervi al canale Nikonisti Extra vi lascio il link qui sotto come sempre vi ricordo che potete lasciare un commento io rispondo a tutti quanti e se non rispondo è perché mi dimentico perché sbaglio però non lo faccio con cattiveria vi ringrazio anche per aver visto il video fino in fondo e vi spoilerò già alcuni dei prossimi video uno dei prossimi video sarà sull'80200 AFS 2.8 e un altro video sarà sul D800 perché quest'anno sono dieci anni da quando è stata presentata e secondo me è ancora una grandissima macchina fotografica per cui voglio farvi la recensione di quella macchina lì grazie a tutti e arrivederci alla prossima